Io mi sono occupato della manutenzione di un ex convento che era diventato un centro sociale e la bussa lavoro per me è stata un'opportunità di ripetermi in gioco perché era un periodo che non lavoravo più, mi ero un po' chiuso in me stesso. La bussa lavoro oltre ad essere stato un impegno lavorativo è stato anche un impegno sociale dove sono riuscito a rinserirmi in un gruppo, lavorare in gruppo, seguire un progetto, cercare di portarlo a termine, ho messo tutto l'impegno in questo progetto della bussa lavoro anche tutte le mie speranze che dopo la bussa lavoro ci sarebbe potuto essere un proseguo lavorativo perché purtroppo sulla patologia, io soffro di una patologia di tipo psichiatrico ci sono molti pregiudizi nei nostri confronti rispetto ad invalidità fisica allora la bussa lavoro è stata non solo un'opportunità lavorativa come ho detto ma è stata anche un'esperienza molto affamativa dal punto di vista sociale e dalla bussa lavoro mi porto dietro tanti bei ricordi ho stretto delle amicizie con dei colleghi dove continuano pure dopo la bussa lavoro su questo argomento non ho niente più da dire